Siamo appena si carica il VOD faccio le clip E ZEGLE 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 E 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 O è blev un po' I'm done with this shit Who put this shit in the game It's a fucking ranked competition Can't fucking do it bro Can't fucking do it no bro where's the fucking competitiveness in this shit a fucking rpg i'm dying to a fucking grandpa right now what is this no wrong no okay i my sponsor stream starting now so i'm glad you got that out but now it's sponsored no more how much i thought i get only 128 for 49